A 52 anni è morto Michele Pasinati, stroncato da una malattia che non è riuscito a sconfiggere. È stato un grande giocatore di pallavolo, è stato il pallavolista, con il maggior numero di punti nella storia del campionato italiano di Serie A, oltre 7.000. Con la nazionale di Giulio Velasco ha vinto il mondiale nel 1998, ma anche due europei e sei World League, a comunicare la morte e la feather volley, che piange un protagonista dell'epopea azzurra della pallavolo degli anni 90.